Ciao a tutti, sono Federica, e bentornati su Jurassic Park. Che c'è? C'è una pianta e un tricerato poi in mezzo alla strada, perché... Sì, ma cosa ci fa in mezzo alla strada Lady Margaret? Oh no, è Bacchita questa. Eh, me lo sono chiesto anch'io. Vai, vai. Io non mi avvicinerei troppo, però... Comandi tu. Sì, che bello vedere mio padre morire, cioè è proprio bellissimo. Allora, esaminiamo. Che cavolo stai facendo? Non ho toccato nulla. Stai fermo. Y, vediamo cosa c'è qua. Molto brava, spinge le cose. No. Si è incastrato qualcosa? Si è incastrato nell'opera posizione. Deve essere un manuale di riliezo nella strada, ma... Non ho detto di aspettare nel caro? Non è un problema. Sì? Siamo bene, siamo bene. Siamo bene, certo? Sì? 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 Llyvati dai piedi. Allora! Chaco. Chaco. Mio d'ho presa di Stato Corte? No, è vero. KELLY KONG versiónista. Aspetta, cosa mi dice? Allora, la macchina e il bunker, chiamiamolo così, per dare l'elettricità e chiudere il cancello, però al bunker ci dobbiamo andare dopo. Quindi, aspetta, rimani... No, ma porca misera. Vabbè, diamo una controllata, vediamo cosa c'è qui. Pensavo fosse impostato sul triccerato. Eh, esatto. Aspetta, fammi dare un'occhiata, vediamo. Ah, cos'è la luce di sicurezza? Qui? Eh, infatti... C'è un bel cortocircuito qua. Eppure... Vedi se c'è un codice? No, non suonare il clacson per cortesia, perché... Uh, che carino! Cioè, il libro si chiama proprio Codici d'Accesso. Va bene. Vai, inserisci il codice. Numeri a caso digitati così. Vai. E fin qua... Ci siamo. Vai, sbloccaci sta roba. Ah, ok, allora era giusto così. Dobbiamo allontanare Bakhita. Eh, di là. Se gli rubiamo il cibo, possiamo farlo. Secondo me, ci ammazza. Uè, 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 uè. Mollalo. Come sta la paziente intanto? Eh, honey, come sta la paziente? Non lo so. Ok, credo. Ma come? Ok, credo che... È un po' snorso. In spagnolo? Ah. Mi stavo per chiedere, ma come fa a saperlo che sta russando in spagnolo? Allora. Ehm... Vediamo. Cosa possiamo fare noi? No, non gliele frega niente. Ehm... Se suoniamo il clacson a questo punto... Eh, vai. Un po' di luci adesso. Ok. Tienile accese. Torniamo... Da... Il nostro amico. E... Proviamo a prendere il ramo. Vediamo se a sto giro... Ok, si sta allontanando. Adesso prende la carica e ci viene addosso. Guarda che te lo metto nel recinto. Tutto tuo. Mangia. Toh. Vai. Sciò, sciò. Bravissima bacchita. Vai. Chiudiamo sto cancello, va. Con tutta la lentezza di sto mondo... A schiacciare il tasto B... Però ce la possiamo fare. No, no, sta per uscire. Oh, chiudi, chiudi, chiudi. Che cavolo... No, torna dentro. No, no, le luci. Così la fa incazzare. Ah, no, ok. Funzionato. Oh, no. Basta, basta. Smettila. Shh, 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 shh. No, no. Se si incazza quella siamo... Si è incazzata. Oh, no, no, no. Chiudi sto cancello. Chiudilo, 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 chiudilo. Oh, cavolo. No, spegni il claxon, ti prego. Siamo morte. Vai, 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 vai. Ok, siamo morte. Ahia. Boh, staccali tutti. Che cacchio ne so. Aiuto. Ok, casualmente ho azzeccato il tasto. Ma come contento... No, basta. Tieni. Vai, provane un altro, perché qui siamo fregati. Muoviti. Forse ha funzionato? Dimmi che ha funzionato, ti prego. Si è calmata. Mio Dio, che casino. Siamo vive, però. È un buon segno. No, questo non è un buon segno, però. Ha tanto l'aria di essere... Il passo di un T-Rex. No. Sono molto seri, devo dire, in questo gioco. E sta venendo da questa parte. Chissà come mai. Vabbè, però ce l'ha col... Sì, ma io sono in mezzo, però. Com'è sta cosa? Ma cosa? Smettiamola. No, mi ammazza. Mi ammazza. Mi ammazza. Ce l'ho fatta? Oddio, ce l'ho fatta. Sono vivo. Oh, oh, oh. Oh, cavolo. Muoni. No, io non c'entro niente. Aiuto. Che cavolo ho fatto? Non lo so che tasso schiacciato, però ok. Ce ne dobbiamo andare da qui e velocemente anche. Andiamo, su. Ma no, perché mi fai schiacciare tasti a caso? Corri. Corri, maledizione. Corri, maledizione. Salvati, Rex. Io sono una brava bambina. Corri, Jess, ti prego. Aiuto. Mi vuole mangiare. Oh, meno male. Brava otrice. Muoviti, 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 muoviti. Aiuto. Ok. No, come cacchio ho fatto? Ammettiamo però che le morti sono fantastiche in questo gioco. Come cacchio faccio? Ok, ci proviamo di nuovo, ma... Ok, ce l'ho fatta, forse. No! Vai, 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 vai. Che culo, mamma mia. Anche in questo caso sono morta una volta solo, meno male. Yeah, siamo vivi. Yeah, I'm okay. How about you? Ogni tanto dai, dei disturbi l'audio di questo gioco, non è colpa mia. Che orribile ragionamento hai fatto. Andiamo tutti insieme a festeggiare. Siamo vivi. Allora. Un attimo di riflessione. Rincuora. Come on, Jesse. Siamo segni ora. Yeah. Gliene frega assolutamente niente. È scandalizzata dal T-Rex. Oh, guarda, una torcia. That reminds me of your old honey bear nightlight. Remember that? You can go to sleep without it. È un sacchiotto luminoso. Non sanno aprire le porte. È troppo piccola. Probabilmente moriremo qua dentro, ma tranquillo, andrà tutto bene. Oh, va che cecchiniamo qualche dinosauro. Vai, carica, carica. Facciamo secchi tutti qua. Bene, ora sono più tranquilla. Abbiamo un fucile che non sappiamo usare perché noi apriamo solo le porte del parco. Che succede? No, no, non aprire la porta. Cos'è? Io direi di tenere bello carico questo e aprire lo spioncino. Cos'era? Non si è visto nulla. Vai, prova ad aprire. Piano, eh. Cos'è? Ma dai! Ma brutto idiota di un uccellaccio. Mi ha fatto prendere un colpo. Chi ha vinto? Non lo so. Vediamo di chi c'è il cadavre. Oh, cavolo. No. Penso il... Boh, non c'è il corpo però, quindi nessuno. Eh. Ah, forse inizia a capire che c'è qualcosa che non va. Ah, forse inizia a capire che c'è qualcosa che non va. A piedi. Eh, fare l'autostop. Beh, dobbiamo... Ah, però, cacchio, camminare con i dinosauri in giro non è molto... Non c'è un'altra macchina in giro. Beh, intanto chiudiamo... No, non possiamo chiudere. È tutto contro di noi, sto gioco. Ma chi è? Attenzione, nuovi personaggi che ci spiano. Eh, io gli manderei un veicolo. Ma porca... Ma una cosa che va giusta. Dammit. Ok, fine. I better get security access. Ok. Eh... In... Dati, forse. Codice base. Porca miseria. Eh, bella domanda. Se lo chiedono anche nel film. Cos'è, sorpresa? Ah, oddio. Esatto. Vabbè, proviamo quello al centro, sennò cambiamo percorso. Ok, allora cambiamo percorso. Proviamo questo. No. Là? Andate a quel paese tutti. Vai su sicurezza. Accesso di sicurezza. Ti odio! Grande essa tizia. Cosa devo fare, scusa? Ma... Quindi, B, Y, aiuto. Controllo? No. Allora. Telefoni. Vediamo se possiamo chiamarli da qua. Magari li avvisiamo. Eh, online almeno. Esatto. Però non è quello che serve a noi. Eh, ma di qua non mi sembra ci sia. Allora, andiamo, mandiamogli il veicolo. Eh, ah, posso scegliere il veicolo? Ma sì, dai, mandiamogli il tre. No, non gli piace il tre. È offline. Tutti bisogno di una manutenzione. Lo sappiamo tutti. Ok, allora gli mando l'uno? Ok, meno male. Siamo qua tutta la notte. Ecco il vostro servizio. Per raggiungere il centro visitatori. La faccia di lui è fantastica quando cerca di capire. C'è un cancello in mezzo alla strada, però. Ma l'ai chiuso alla portiera. Ma c'era un pezzo di cancello sulla rotaia. Dettagli che non interessano. Si sta riprendendo, anche se non è molto lucido. Ma che problemi hai? No, non sono Marikita, mi dispiace. Non sapete quanto hai sperato. Eh? Esatto. Marikita, che pazza, mi amore? Bien? È il tio? Yogur? Cos'è? Non lo so, io in spagnolo... Necessita... La biblioteca! La lapiz! No, non ho la più palida idea. È il descanso. Il descanso? Yogur necessita il descanso. Esatto. Eh, tio... Necessita... Necessita... Il descanso. Allora... Allora... Usted... Necessita... Necessita... Io perché ho indosso un collare per i cani? Miss Ortega non va a credere questo. Sono uno più idiota dell'altro, questi personaggi. Dad, guarda! Uh, il centro visitatori, bene. Sicuramente! Sicuramente! Let's go! Yeah! La salvezza! Ok ragazzi, direi che per questo episodio è tutto. Ripeto che... I personaggi sono uno più stupido dell'altro. E andiamo a scoprire nel prossimo episodio cosa succederà. Quindi stoppo qui e ci vediamo nella prossima parte. Bye! 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 Bye!